Cordiali colloqui in Vaticano tra Papa Francesco e il primo ministro della Repubblica di Polonia. Nel corso dell'udienza, reso noto la sala stampa vaticana, è stata apprezzata la serena ed efficace collaborazione alla preparazione della visita che il pontefice compirà in Polonia nel 2016, in occasione della giornata mondiale della gioventù. Nel proseguio della conversazione c'è stato poi un scambio di vedute sulla situazione internazionale, con particolare attenzione all'Ucraina. Grazie a tutti.